Ciao a tutti, io non so se ho saputo di poche parole, quindi ringrazio sicuramente tutti questo fantastico premio e quindi niente, non ho altro da aggiungere, è solo che tanta voglia di ripartire, perché no grazie mi sento giovane, anche se le date non dite questo Grazie a tutti, abbiamo finito come ci aspettavamo, però è stata una luna difficile e secondo me è bella abbiamo visto tanta gente che è tornata in stadio, quindi spero che l'anno prossimo riusciamo a fare ancora questo quindi vi aspetto l'anno prossimo Ciao